Musica Presente all'AIM Investor Day 2016, anche Energy Lab, abbiamo il piacere di avere qui con noi Giovanni Dorbolò, amministratore delegato e presidente della società. Buongiorno. Buongiorno. Iniziamo subito, dottor Dorbolò, tracciando le linee di sviluppo strategico di Energy Lab. Energy Lab è una società che opera nel mondo green, nell'efficienza energetica e nella realizzazione di impianti e gestione di impianti da fonti rinnovabili. Le strategie del gruppo sono ovviamente rivolte a questo settore, noi operiamo in diverse linee di business, quindi la nostra attenzione è soprattutto rivolta alla crescita organica, ma anche per acquisizioni per linee esterne, sempre rivolte al segmento in cui operiamo. I tre fattori, i driver di crescita per i prossimi anni riguardano l'internazionalizzazione, in cui stiamo investendo molto, soprattutto con un focus nell'area balcanica. Noi siamo collocati nella regione Friuli, quindi l'area balcanica per noi è geograficamente molto interessante e molto vicina, quindi questa rappresenta per noi un primo punto di interesse. Porteremo all'estero le nostre competenze, la nostra tecnologia, la nostra capacità di gestire gli impianti e anche di saper valutare gli investimenti. Il secondo driver di crescita, a livello strategico, è l'efficienza energetica, un settore in cui abbiamo investito molto e siamo cresciuti molto nel corso dell'anno 2015, in cui vogliamo portare tecnologia e servizi. In questo stiamo sviluppando dei nuovi approcci al mercato, un mercato che nel corso degli ultimi anni è cambiato molto. Pensate all'introduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili, una produzione come quella del fotovoltaico distribuita sul territorio, le cui reti però di distribuzione non sono preparate. Quindi è necessario investire, e noi stiamo cercando di farlo con degli strumenti semplici che possano rendere disponibile questa energia, in quelle che vengono definite le smart grid, quindi reti intelligenti capaci di gestire facilmente punti di distribuzione e di produzione dislocati sul territorio che in un tempo erano centralizzati. Terzo driver di crescita è legato all'independent power producer e in particolare al focus degli investimenti sul waste to energy. waste to energy in cui noi stiamo investendo sia in qualità di produttori di energia, ma sia anche in qualità di costruttori di impianti. Queste insomma sono le linee strategiche di sviluppo di Energy Lab. Adesso ci racconta perché investire nella vostra società, magari focalizzando l'attenzione su determinati punti di forza? Le motivazioni riteniamo siano diverse, molteplici soprattutto. Innanzitutto noi rappresentiamo una delle poche aziende italiane che è stata in grado di diversificare molto la sua attività, pur mantenendo comunque l'attività come core business nel settore green. Ripeto, noi abbiamo diverse linee di business, dalla realizzazione di impianti di diverse tecnologie, dall'eolico, fotovoltaico, biogas, sing gas. Adesso introdurremo anche una nuova tecnologia che è l'idroelettrico con cui siamo interessati a sviluppare soprattutto progetti all'estero. Efficienza energetica, produzione di energia elettrica, servizi di O&M, quindi operation and maintenance e asset management. Quindi un'attività molto diversificata e la diversificazione, come ci insegnano i bravi investitori, è un elemento fondamentale. L'altro motivo, secondo me, è abbastanza, come dire, pragmatico. Noi siamo partiti nel 2008, comunque una realtà giovane, nel 2008 fatturavamo qualche centinaia di migliaia di euro. Oggi chiudiamo il 2015 con circa 26 milioni di euro di ricavi. Dal primo anno di bilancio siamo sempre stati inutili. Quest'anno chiuderemo con un utile comunque importante, con una crescita importante rispetto all'anno precedente, quasi 4 milioni e mezzo di EBITDA, quindi numeri di tutto rispetto per un'azienda che opera nel nostro settore, il cui indebitamento, tra l'altro, è molto anche contenuto. L'altro elemento fondamentale è che siamo un team giovane, composto da ragazzi giovani che hanno passione per il lavoro e ci credono molto in questa iniziativa e che, dati alla mano, sembra che ci stiano riuscendo. Come giudica l'esperienza sul mercato AIM Italia? Beh, sicuramente positiva per una realtà come la nostra, una realtà piccola, è stato importante perché è stato un passo di crescita sia a livello strutturale che d'immagine, ci ha dato molta credibilità sul mercato finanziario, anche nei confronti di nostri clienti investitori, che a volte sono investitori, fondi di investimento anche istituzionali. Il fatto di essere una società soggetta a certi regolamenti, che non sono quelli di una classica società privata, ma sono di una società che comunque è presente a mercato in cui il pubblico può investire, quindi dalle cose banali della revisione del bilancio all'informativa, al mercato, questo ci ha formato e ci rende anche molto più trasparenti. Noi ringraziamo Giovanni Dorbolodi e Energy Lab. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti.